e adesso partiamo con un talk, un talk che ha molta risonanza mediatica in questo periodo perché eh è su tutte le pagine dei giornali. Abbiamo se il nostro regista mi mette in split magari abbiamo dei titoli dei giornali dove eh vediamo eccoci qui c'è Roma Today dove c'è la psicosi è scoppiata psicosi Squid Game. Sono successi tanti casi da questa serie ma finché era a livello mediatico adesso siamo arrivati anche nel eh nella vita reale. Ne parliamo con gli ospiti in studio ve li presento Roberta Damiata giornalista scrittrice del giornale F. Ciao Roberta. Facciamo. Puoi accomodarti. Grazie. E Assunta Mendola. Piacere. Psicologa dell'età evolutiva. Si può accomodare lì? Allora proprio Assunta Mendola ha scritto un libro che eh lo abbiamo in copertina magari se lo possiamo mettere in split Luciano e è proprio eh il libro adolescenti nella rete quando il web diventa una trappola. Ecco collegato al caso di Squid Game appunto sta diventando una trappola per molti giovani. Eh sì infatti questo mondo nuovo del web ha bisogno di molta attenzione e e dobbiamo dire che gli adulti purtroppo non sono preparati perché per loro è anche un mondo nuovo e quindi serve osservare bene quello che succede eh serve tanta attenzione eh per cercare di non far incorrere i bambini e i ragazzi in trappole appunto ehm questo non è semplice perché per due motivi uno perché gli adulti i genitori educatori conoscono poco questo mondo e poi anche purtroppo talvolta c'è l'illusione l'inganno eh che eh seguire molto eh lavorare col computer quindi seguire molto i social eh possa dare al bambino e al ragazzo delle competenze di tipo informatico comunicativo che possono magari essere utile per il futuro però sappiamo che questo non è vero è tutta un'altra cosa quindi che cosa possiamo dire che sicuramente per i bambini è necessario che eh i genitori siano molto attenti all'uso che loro fanno eh del tablet o dello smartphone anzi è raccomandazione anche dei pediatri che vedono mh i danni che può provocare in eh età precoce un uso massiccio del eh dello smartphone eccetera e quindi ci sono delle raccomandazioni di limitare l'uso per i bambini almeno fino alla preadolescenza dieci dodici anni poi sappiamo che siamo in un mondo dove i nostri ragazzi sono molto precoci l'adolescenza si è si è abbassata per esempio il fenomeno di Squid Game io da quello che ho sentito riguarda addirittura bambini delle elementari esatto infatti esatto collegandomi anche no Roberta abbiamo visto dei titoli eh di testate giornalistiche che hanno appunto riportato casi di realtà cioè quando la finzione chiamiamola così perché si parla di uno sceneggiato un seriale televisivo passa alla vita reale sì perché l'omologazione è la cosa più pericolosa soprattutto in quell'età perché i bambini imparano eh da neonati in poi eh guardando quello che succede nel mondo e riproponendolo poi nell'adolescenza comunque iniziano a formarsi una propria idea un proprio pensiero quindi quando loro eh sono davanti a una una serie tv ma ancora peggio perché il discorso non è tanto la serie tv è il mondo che viene visto attraverso quelle cose che la serie tv viene riportata nel telefonino su tiktok nei social quindi è un bombardamento continuo e e viene visto tutto un po' come un gioco no perché si entra in rete per un gioco eh vedendolo come un gioco c'è il rischio d'omologazione quindi io vado eh a scuola e eh al mio compagno lo tratto così come ho visto fare perché tanto l'ho visto fare su tiktok eh faccio il video lo mando prendo i follower questa è la cosa più pericolosa cioè è impossibile in questo momento ehm fermare la rete per quanto riguarda i bambini impossibili gli strumenti che secondo me i genitori devono avere è quelli di eh far capire la differenza tra realtà e fantasia e questo io lo dico perché io sono mamma di una eh di un adolescente e per esempio proprio parlando del fenomeno di Squid Game ehm lei lo aveva visto mi ha detto mamma te lo vedi quando io l'ho visto devo dire la verità mi ha preso un colpo mi sono sentita in colpa come genitore ehm ho pensato di tutto e di più e quindi il primo istinto è stato quello di dire adesso gli tolgo il telefono gli tolgo tutto però poi ci ho pensato e con lei ne ho parlato per cercare di dargli gli strumenti e di far capire che quella è una finzione che nella vita reale quel tipo di situazioni sono situazioni che non vanno replicate perché hanno delle conseguenze molto importanti sia nella vita degli altri che nella propria vita io questo penso fondamentalmente infatti l'importante è quello a come ha detto la professoressa Amendola far capire ai giovani gli educatori quindi questo magari anche gli insegnanti lei prof è anche una docente per gli insegnanti no? Sì. Sta pensando di prendere in considerazione un argomento se già non lo ha fatto con i docenti per prepararli a queste situazioni perché abbiamo visto anche nelle scuole anzi soprattutto nelle scuole si sviluppa questo fenomeno. Sì. Beh Dandi che Alcidi che è un'associazione degli insegnanti abbiamo un gruppo di studi e ricerca che circa una decina di anni fa avevamo chiamato Mente in Rete proprio perché volevamo sottolineare il fatto che è importante nell'ambito della cultura e della scuola una riflessione su quei temi del digitale del web che non vengono assolutamente trattati dai gestori delle varie piattaforme e dei vari ambienti eh nel nostro tempo serve una riflessione di altro tipo e e questa ovviamente è importantissima per i bambini e per i ragazzi eh questo perché appunto parlavamo di squid game eh ci sono delle voci che parlano soltanto di proibirne la visione. Certo. Invece sicuramente questo non è un metodo che possa essere efficace. Come dicevamo prima i bambini ovviamente non possono essere esclusi da questo mondo perché anche il loro mondo però debbono farlo con con i genitori. Con la consapevolezza. Fino a una certa età ma anche squid game io vedo che adolescenti e preadolescenti lo vedono con i genitori perché ci sono eh una fascia di genitori giovani eh ai quali anche piace però vederlo insieme ovviamente consente di discutere eh e quindi può diventare una riflessione che arricchisce il il bagaglio culturale del ragazzo. Quando invece eh questo viene fatto di nascosto eh il bambino non può avere una guida eh rispetto a quello che sta accadendo e e quindi appunto c'è limitazione eh quello che possiamo dire che appunto serve sempre l'attenzione e quel legame affettivo che i genitori debbono avere nei confronti del bambino. Il ruolo di educatore. Di vedere sempre vedere e seguire i bambini dialogare. Proibire non serve a niente. Proibire non non porta a nessun riscontro eh positivo. Anzi. Tranne più neghi più viene l'interesse e la curiosità di poter andare a vedere e magari si 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 ingigantisce pure il fenomeno. Allora abbiamo in collegamento a proposito di docenti perché parlavamo di scuole Giulia Sottili e lei è una professoressa che lavora in un istituto superiore e è insegnante di filosofia e psicologia. Eccola Giulia. Buonasera benvenuta. Grazie. Giulia. Lei ha assistito a dei casi di emulazione Squid Game? Allora personalmente no. Mh fortunatamente anche direi. Ehm vorrei partire proprio mh agganciandomi a quello che diceva poco fa la professoressa sul fatto che eh i bambini e i ragazzi apprendono per imitazione eh limitazione quindi è un meccanismo che sta alla base dell'apprendimento stesso. Questo in particolar modo per quanto riguarda eh i bambini piccoli le quindi limitazione è la prima tipologia di eh interferenza diciamo con l'ambiente circostante. Quindi i bambini osservano eh e replicano tendono a replicare quello che eh viene eh da loro osservato soprattutto se quella data azione quel comportamento viene messo in atto dal loro modello di riferimento. Tuttavia questo comportamento questa questo fenomeno non scompare nell'età poi evolutiva. crescendo i bambini continuano a ricorrere a limitazione e a limitazione però si sposta eh diciamo la la ricerca da parte loro del rinforzo eh non è più l'adulto di riferimento che interessa loro ma è l'appoggio e il rinforzo del gruppo dei pari. quindi per i ragazzi per i giovani è importante il consenso degli amici, il consenso del gruppo, il consenso degli amici anche virtuali soprattutto. Quindi crescendo cambia la finalità stessa del processo imitativo. Diventa il consenso sociale lo scopo, il consenso social anzi direi. Quindi per l'adolescente è fondamentale la la condivisione e eh portare avanti ciò che viene fatto dal da altri ragazzi della stessa età e quindi diventare parte di quel processo stesso. Quindi è cambiato lo scenario ehm non sono più tanto gli adulti di riferimento le persone che i giovani cercano di eh imitare quanto piuttosto i ragazzi. Quindi c'è un processo imitativo che si innesca a circolo tra di loro. Quindi l'azione educativa eh deve puntare comunque ad inserirsi in maniera costruttiva all'interno di questa dinamica tra giovani. Quindi nonostante sia cambiato lo scenario, gli adulti, i giovani, i genitori e i professori non devono rinunciare a interferire, devono inserirsi attivamente in questo processo, devono cercare di conoscere il mondo dei ragazzi, evitare lo scontro generazionale, quel muro contro muro che tende poi a radicalizzare i miei giovani, il rifiuto di qualsiasi interferenza da parte degli adulti. Io in qualità di insegnante di sostegno e di referente per l'inclusione tra l'altro dell'istituto nel quale lavoro passo molto tempo a parlare con i ragazzi. E questo è importante, la comunicazione è sicuramente un veicolo importante anche per portare i giovani perché un po' i giovani hanno questa visione distaccata del professore come un ruolo istituzionale e l'alunno eh che è messo un po' da parte. Invece soprattutto in questo momento dove appunto stiamo assistendo anche a casi importanti perché ripeto proprio le scuole sono il luogo dove vengono emulate queste situazioni. Certo. Tant'è che molti istituti hanno deciso di inviare ma dei veri e propri bollettini e non avvisi un po' come si usava un tempo avviso scolastico. Adesso c'è proprio scritto bollettino e di invitare i genitori alla non visione di questa serie. Prof Amendola vorrei chiederle se secondo lei è una mossa giusta questa di eh magari anche da parte delle istituzioni di vietare la visione di un film anziché magari adottare delle precauzioni perché poi è il concetto che facevamo prima anche con Roberta no? Cioè più vieti e più viene un po' quella eh quella curiosità perché una persona dovrebbe vietarmi. Sì no il il vietare qualcosa a un bambino o un ragazzo eh vuol dire poi non aver fiducia in lui quindi pensare che il eh debba sempre rispondere in modo negativo eh mentre magari eh basta una discussione un' attenzione eh rispetto a quello che succede nella rappresentazione nella finzione e quello invece che deve accadere nella realtà perché noi possiamo senz'altro dire che eh un bambino che dal punto di vista psicologico diciamo non ha grosse problematiche difficilmente poi eccede nella violenza eh sa distinguere la realtà dalla rappresentazione eh e quindi mh però da vedere appunto anche eh certo Squid Game eh non è proprio per i bambini però eh con un'opportuna guida dei genitori potrebbero anche vederlo comunque non è uno spettacolo dei bambini il problema è che lo vedono senza nessuna eh possibilità di dialogare io ho sentito genitori ecco 40-45 anni che lo vedono insieme ai figli preadolescenti e trovo che questo sia molto interessante perché perché consente di avviare una discussione che serve al bambino e al ragazzo per maturare proibire bloccare eh non serve a nulla serve sempre il dialogo la discussione eh la fiducia nelle capacità eh del bambino e del ragazzo ma ovviamente tutto è legato all'età eh perché c'è un'età in cui eh non solo non non ha più senso proibire ma non si può fare quindi eh tutto il lavoro che i genitori debbono fare eh per rendere i bambini e i ragazzi poi autonomi e capaci di vivere serenamente le relazioni insomma la violenza non è accettabile quando eh il limitazione anche del della serie tv eh diventa una esercitare realmente la violenza questo non non va bene se poi rimane come gioco con l'attenzione di non fare veramente male a nessuno con lo spirito del gioco esatto se è veramente un gioco è un'altra cosa uno scopo quindi sono aspetti eh i quali bisogna prestare molta attenzione perché non tutti riescono a capire quando il gioco trascende ma infatti è una situazione molto complessa e ramificata potremmo aprire tanti sportelli su questo infatti eh non è solo ehm Squid Game ma bisognerebbe allargare il discorso per esempio anche videogiochi che sono i stessi genitori che regalano gli zii gli amici che le regalano e ci sono dei videogiochi talmente violenti al pari di Squid Game che con cui i bambini giocano e vengono usati eh come babysitter dai genitori cioè li ricomprano il gioco loro sono lì e guardano quindi allo stesso modo di Squid Game piuttosto eh di di altre serie tv piuttosto eh di TikTok non tanto Instagram ma appunto TikTok è più per i ragazzi dobbiamo intanto iniziare a non utilizzare tutti questi mezzi come dei babysitter questa è la cosa fondamentale perché eh i ragazzi hanno mille vie per poter vedere le cose se glielo proibisci dico per dire su eh il canale dove lo mandano se lo vedono su TikTok glielo passa l'amico quindi è impossibile anche perché i mezzi di diffusione i mezzi di diffusione sono cambiati oggi troviamo delle pillole presenti anche sui social che ti invitano poi alla visione ecco una domanda eh per concludere Squid Game è alla visione di tutti pare dal regista che sia pronta la seconda serie e quindi va a gonfie vele quindi no alla censura perché ad esempio nel caso di oggi eh un'ultima notizia un film della Warner Bros eh che riporta un po' il massacro del Circeo è stato invece censurato eh quella è una cosa assolutamente da non fare perché comunque già ci sono delle limitazioni di visioni è un film che si può vedere al cinema e secondo me limitare in un una cosa in più però la eh il eh i divieti in generale sono delle cose da eh non dover fare perché il divieto come dicevamo prima e lo 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 ridiciamo altre cento volte porta anzi a eh voler più fare le cose. Certo. Sì il prego. Allora il divieto sicuramente non ha senso eh però eh forse i media digitali dovrebbero consentire maggiori modalità eh per affinché i genitori siano sicuri di poter escludere eh dalla visione dei bambini alcune cose. Certo è complicatissimo. Ecco professoressa intanto però un'attenzione a scontrare due mondi no? Che sono quello del mondo del business per quanto riguarda appunto i social e tutto il resto e poi per quanto riguarda invece proprio il mondo del sociale quindi io non vorrei essere totalmente negativa però dico contro determinati colossi c'è poco da fare perché hanno tutti gli strumenti per accalappiare lo fanno con noi adulti però figuriamoci con i ragazzini. Detto questo siamo noi genitori che dobbiamo dare gli strumenti a questi ragazzi e beh eh starci sopra parlarci molto per essere in grado di poter eh assorbire anche queste cose e saper distinguere la realtà dalla finzione che è la cosa fondamentale secondo me è la cosa fondamentale. Volevamo un pensiero da parte della professoressa la salutiamo tanto ci vede a casa grazie per aver partecipato Giulia grazie alla professoressa Mendola e vi ricordo il libro adolescenti in nella rete importante questo perché appunto è proprio il mezzo di diffusione eh dove i giovani oggi ci si ritrovano e grazie a Roberta Damiata giornalista e scrittrice per il settimanale grazie mille ci fermiamo per qualche secondo e poi torniamo qua con un'intervista molto interessante ad un personaggio altrettanto interessante grazie mille ci fermiamo per le mie grazie mille ci fermiamo per le mie